Musica ma hanno 200 euro, c'è bene che mai io ho chiesto in mezzo ai cittadini, poi se io devo no, non ci lo farei, mi non ha dato la domenica, poi c'è il giusto che io mi metto che, metto le fontate da uno, che cosa l'avete visto questo, se si piglia uno, se si piglia un altro, io ti metto le fontate da uno, io ti metto le fontate da uno, sono 55, sono arrivo oggi a 55. Una vera istana notizia dell'avvocato, cosa? Una vera istana notizia dell'avvocato, quale? Quella che a fine mese chiude, che a fine mese chiude? E' una vera caro, venia una foglia, l'ha fatto meraviglia, l'avete fatto chiudere voi? Ho capito che cosa sta succedendo, eh? Minja, l'avete fatta grosso stavolta. Ora, se l'avvocato dice a te a nome di istana, una p***a nuova, ci garantisco io, ma che garantia distanza? No, mi rimane detto che ci sono io dietro. Commercialmente non te la faccia meglio, e cioè stia attento che è per di soldi, quello che tu c'hai sul camion e già me lo puoi interessare a me, posso dicere. Come sta? C'è un c***o che lo conosci? Sì, sì, con me lavora pure. Oh, wow, tutti i traditori, ma come c***o funziona in Sicilia? Io non riesco a capire. Tutto ruota intorno a me, forse non le capisco. A me la ballaria non ti riesco, io la farbicciare la ghiottacca la ballaria. Io scatenare l'opera che tu non hai idea. Perché io camminerò sotto il nome suo, io sarò la sua ombra. E poi vedremo il saccanire. Il saccanire di noi, come parlavo del saccanire, mi raccontavo che la ghiottacca accadde, e sono attività. E poi avrei riuscito a fare questa ghiottacca, a me la riuscite a fare questa ghiottacca. Questa è la castanita, io arrivo a Parigi e non so ne ho mai bitten. E non ci sono делi. Queste sono le nascteriori, online e sono le nascite, non le potesse. La resta stacca, qui, alcune di rinnovarie e io mi racconto, non mi riuscite la ghiottacca. Dio ma a biglielo che fanno male.